il momento è solenne volevo unirvi in matrimonio allora dacciolo l'anello lo devi mettere dentro e fallo vedere alza i brazzi grazie grazie lo sposo è un po' arrabbiato basta non ne portiamo più la sposa la sposa la sposa ce lo deve mettere allo sposo l'anello ma è la sposa veniva tu qua no a meno con quando e l'amore vettila di dito più piccolo ammazzate alza alza ma questo matrimonio è unico questo matrimonio è unico signor sindaco e fuori dire due valori di armonia eeeh eeeh che voglio ooooh eeeh sanzerati ooooh ooooh attasso ooooh e staccatemi ehi ehi i bassi i bassi ehih allora per favore il microfono 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 ehi qua si perde tempo ma non tanto da fa un persteiere ha già andato però noi ce ne andiamo amore a figli maschi figli e femmine come li volete ooooh 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 le bomboniere le bomboniere il bagno perchè sono autologato adesso praticamente c'è il bagno principale e quello di servizio principale e di servizio siete contenti? si 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 dove andate il baggio di nozze? a carapelle e pure oceolanda meh meh gli sposi sono uniti in matrimonio una cosa adesso andiamo bene uno via ooooh ooooh dove è andato? è la finta è la finta ooooh pronti? di nuovo il mazzo della sposa vediamo il fortunato uno uno due e tre eeeh non è possibile c'è le persone qua il tempo si inge eh pronti? uno due tre eeeh 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 questa è la fortunata la da Michele la da Michele è un momento di festa non sei sposata quindi nooo tra un po' mi sposo pure io da basta aspettiamo aspettiamo quindi aspettiamo aspettiamo e allora che significa? ci sposiamo ho capito ma tu aspetti che cosa? no 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 quello che deve arrivare no 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 quello che deve arrivare una un po' mi sposo Grazie. Vogliamo ringraziarvi tutti per la presenza attiva in questo matrimonio. Grazie a tutti. Bene, adesso faremo l'ultimo compagnimento, saluteremo questi sposi, saluteremo questi sposi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mia nonna, la mia nonna, la mia nonna, la mia nonna, me voglio... Vanno a Napoli. a Napoli, a Napoli, Donuccio, siamo tutti con te, Donuccio, tutti i maschi stanno con Donuccio. Donuccio, arrivato! Allora, figlia di ambele, cosa fa? Sì, è un po' di carta nasce, e quindi non fa. Non c'è, non c'è più. 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 Adesso sono partiti. Ci ritroviamo davanti alla Chiesa poi cominciano a ballare e poi cominciano i giochi con la gara della corsa nei sacchi, tutti quanti potete partecipare e porteranno davanti la chiesa. Si mangiano le chiesche e lo beviamo. Grazie, adesso canto di Dio. Andiamo, andiamo. Grazie a tutti. Facciamo due spalle alla volta, dai. Allora, vediamo ancora. Eccoci qua. Che siamo? Che siamo allora? Ragazzi tutti pronti? Pronti? Via! Grazie, ragazzi. Dietro, 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 dietro. Piano, piano, signora, piano, 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 piano. Un salto! Pronti? Allora, se ci siamo, non c'è la palla. Pronti? Allora, se ci siamo, non c'è la palla. Non c'è la palla. Vedi? 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 Non c'è la palla. Pronti? Vai, viocca! Allora, tre, due, uno, via! Vai, ciò già, fuori, ciò già, fuori, 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 fuori! Bruno, via! Ha detto madonna che dottore, ha detto questo giorno. Grazie. Ci sono gli altri piatti, dai, gli altri piatti qua, ci sono? Gli spaghetti ci sono, quindi abbiamo qui, da questa parte, c'è il riso, no, no, toglietemi, 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 fate vedere a tutti, fate vedere a tutti, fate vedere a tutti, dobbiamo controllare il piatto che si suona pina, il piatto che si suona pina. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Vedi, ci siamo! Dai, dai, dai! Ancora! Dai, dai, dai! Dalli qualche corpo, ok? Ok, ok, bravo, bravo, bravo! Ok! Ok, ok, arriva così, arriva così, allontana! Prima! Dai, qua, qua! Dai! Prima! Andiamo! Cris-SXQ! Ehi! Ciao, ciao! Così, dai! Vsek-SXQ! Ehi! Ehi! Ok! Ehi! Ehi! Ho夫! Ehi! Ehi! Buona! Ehi! Ehi! Alright! Come andai! Oh! Ehi! Grazie a tutti Grazie a tutti